italian slow food presenta poppy una macchina semplicemente rivoluzionaria poppy trasforma l'acqua in neve in pochi secondi riscopri i sapori di una volta solo acqua senza costosi prodotti in polvere che alterano il gusto e influiscono sull'efficienza della macchina davanti agli occhi del tuo cliente una spettacolare cascata di pioggia a neve poppy trasforma un angolo della tua attività in una irresistibile oasi estiva poppy è subito pronta e semplice da utilizzare grazie a un intuitivo display digitale programmi la capacità del bicchiere il ciclo di lavaggio ed igienizzazione senza smontare nulla la qualità del prodotto è garantita da flash machine azienda 100 per cento italiana presente nel mercato da 35 anni disponibile anche completa di corno il corner poppy è dotato di tutto quello che ti serve per fare granite ed è particolarmente ecologico il circunto interno utilizza sempre la stessa acqua eliminando i consumi elettrici anche i consumi elettrici sono bassissimi infatti poppy consuma corrente solo quando in produzione granite smoothies aperitivi e cocktail non c'è il limite alla fantasia con la tua poppy poppy può essere tua anche in locazione prendila per la stagione estiva e poi potrai tranquillamente decidere se riscattarla scontando tutti i canoni già pagati poppy ed è subito estate